e buongiorno cari amici follower un palermitano qui a malta oggi giorno della spesa non perché sabato ma perché mi è finita la carne e vi faccio vedere dove vado appunto dove vado a comprare la carne cosa andrò a comprare e poi ci rivedremo a casa vi farò vedere quanto speso e che cosa ho comprato con questo ci vediamo dopo buongiorno cari amici Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spesa fatta. Il zaino pure strapieno. Si torna a casa e faccio vedere quello che ho comprato e quanto ho speso. Finalmente a casa, sudato perché comunque ho camminato. L'ho utilizzato anche come cardio con zavorra perché lo zaino comunque pesava anche le borse. Questo è quello che ho comprato. Ho comprato pollo. Sono ali di pollo. Poi ho comprato questa carne qua a tocchettini, chiamata paccio, che è ottima, è buona. Quando me lo voglio fare, che ne so, a brodo o con le patate. Poi qua il salmone. Anche l'ultima ponte di grassi. Altra carne a brodo. Tritato. L'altro tritato. Poi questo bel tocco di carne. E poi questi qua immancabili hamburger bel cangus da un chilo ciascuno. Un chilo e due se non sbaglio sono. Sì. Un chilo e due. E questa è la spesa di oggi. Penso che in due o tre settimane possa bastare. Con questo il video è terminato. Noi ci vediamo poi al prossimo video. Un bacio.